buonasera e benvenuto a tutti i giovani della parrocchia di moglie di bondanello presentano il risorto opera rock interamente musicale di daniele ricci invece queste parole ma se è così se gesù è vivo allora cambia tutto essi è una colata di paradiso vedete sulle nostre vite come spalmare ogni attimo di vita fino alla fine nella serenità no 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 Ma è potente, resto qui con te, amo tu e te. La tua rea potasì, ti consegniamo costui, che si proclama il nostro re. Io questa gente non soddisfero, ti sei, non sei di cosa dicono di te, che sei un re, sei davvero il re di questi due, dei giudei. Io re, ma il mio regno non è qui, il mio regno non è di questo mondo, mondo no, non è di quanto tu. La tua rea potasì, ti consegniamo il corpo, il tuo corpo non posso guardarla. La tua rea potasì, ti consegniamo il nostro re. Sì, non mi amo, ma che diremo, nessuno crederà Qui mi angosto pensassi, tu non ci sei più Sono un uomo qualunque che sta nel buio perché non ha più dio Sono un uomo qualunque ma sono io Io farò con voi, io farò con voi sempre Fino alla fine del tempo, con voi io camminerò È il suo, è il suo, è il mio, è il mio È il suo, è il suo, è il suo, è il suo Signore, risporto la vita, risporto la vita Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.